Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e questo oggi vi faccio vedere come ottenere questo tipo di layout, in particolare la dashboard di performante che tutti mi avete chiesto Fabrizio come hai fatto a mettere la di performante qui in bella vista, aspettiamo il tuo tutorial. Eccolo qua, il tutorial è arrivato ragazzi, finalmente, allora piccola storiella perché c'è tutto questo spazio disponibile, perché molto semplicemente chi usa un triple screen e utilizza OBS o Streamlabs per far rientrare nell'area di lavoro, tutta questa qui dove c'è tutte le informazioni e le immagini, OBS comprime la cattura del gioco perché c'è una funzione qui nelle fonti, cattura gioco, che comprime al massimo le immagini per far vedere il massimo possibile le immagini. Ovviamente si può allargare per mettere praticamente la dimensione massima 10,80 di altezza, scusatemi, però ovviamente si avrà soltanto diciamo la parte centrale del video. In questo caso qua la bellezza è proprio farvi vedere il panorama, cioè che cosa c'ho davanti ed evitare di riprenderlo con una telecamera esterna perché se non ci sono le luci ben fatte eccetera eccetera o ben calibrate si vede male. In questo caso potete apprezzare tutto quello che è l'immagine in triplo schermo che vedo, infatti è fedelissimo a quello che vedo io, solo che lo vedete digitalizzato piuttosto che vedere questi tre schermi. Quindi rimane questa banda centrale, d'accordo, per poter apprezzare il tutto, che ripeto potrei compensare allargando, però non si vedrebbe tutto così. E quindi rimangono queste due bande sia sopra che sotto. Sotto io ho deciso, ho detto metto il mio faccione e la pedaliera e in mezzo ci metto la di performante che è questa forma wide 16 noni anche che viene a compensare bene e in più dà un bel po' di informazioni utili per capire quello che sta succedendo anche a livello di guida. Rimane sopra dove uno può mettere banner, cose eccetera. E quindi siete tutti interessati a come ho fatto ad inserirla. In realtà è molto semplice ragazzi, è molto semplice perché la di performante funziona con una dashboard generata su Cmab. Quindi Cmab ha la possibilità di proiettare tutte queste dashboard praticamente ovunque, qualsiasi cosa che c'è uno schermo. In questo caso specifico lo proietta sullo schermo che Eddy di Epilab vi fornisce quando comprate la dash ed è riconosciuto come uno schermo. Infatti lo collegate al computer tramite un cavo HDMI, ma questa performante io potrei farla eseguire sul monitor normale. E' uguale, solo che la figata è averla proprio sullo schermo. Quindi come bisogna interpretare? E niente, bisogna andare a prendere la fonte da dove la eseguite. Quindi in questo caso specifico non vi posso far vedere sullo schermino, però vi posso far vedere ad esempio come si fa se lo eseguite su uno schermone oppure sul vostro cellulare. Perché no? La prima cosa da fare è andare ad avviare Cmab, eccolo qua, e andare sul dash che sono qui. Quindi questo funziona con tutte le dash ragazzi. Quindi a questo punto io eseguendo la performante in questo caso mi propone 5 opzioni. Quindi window head a finestra, in un monitor secondario, in un terzo monitor, in un monitor specifico oppure su tablet o smartphone. Quindi prendiamo l'esempio dello smartphone, eccolo qua, o su tablet, dove avete la possibilità di scansionare il vostro QR code che vi apre direttamente l'indirizzo IP che viene generato da Cmab, scelto da Cmab, di dove andrà a mandarvi appunto queste dashboard. Oppure lo inserite manualmente nel vostro browser. E quello che succede è molto semplice. Questo, che siete confrontati direttamente quando aprite il browser, ha Cmab praticamente sul vostro browser. Cioè vi fa vedere tutte le varie dashboard. A questo punto basta eseguirlo e guardate un poco, vi ritrovate con la dashboard. Ora, voi non lo vedete in questo momento, ma siccome voglio fare le cose fatte per bene, ecco qua il video esterno dove nel monitor secondario è eseguita la dash e su OBS viene riprodotta. Ora, come si fa per praticamente ridimensionarla? Basta andare su questi, su questi praticamente quadratini, d'accordo, eccolo qua. Allora, lo faccio con il telefonino perché quando salvo, perché quando registro non si vedono. Quindi adesso li avete visti questi quadratini. Tenendo premuto il tasto alto della tastiera e i quadratini che vi ho fatto vedere, potete andare a ritagliare la vostra dash come volete. Ovviamente questa bisogna toglierla. Quindi potete ritagliarla e metterla a dimensione che volete e posizionarla. Questo è tramite il browser, ok? Ma è la stessa cosa se fosse tramite monitor secondario. E ve lo faccio vedere, è molto semplice. Adesso questo lo togliamo di performante. Non lo vedete, ma ve lo faccio vedere lo stesso perché mi sono inventato qualcosa. Faccio cattura schermo, che è qui, eccolo qua. Quindi lo scriviamo, che ne so, schermo performante, tipo così. Adesso, eccolo qua, lo state vedendo. Posso andare a cercare il monitor. Ovviamente qui ci dovrebbe essere tipo il terzo monitorino oppure il secondo. Eccolo qua, dove c'è la performante. Quindi io faccio F11 e me la vado a ritagliare come al solito. Ecco qua, ritaglio, ritaglio. E la posso ridimensionare. E la posiziono qui, ovviamente. Qui devo togliere il video. Eccolo qua. Quindi questo qua è preso da un monitor. Dal terzo monitor. Quello di prima dal browser. In pratica, ragazzi, la fonte è sempre Zimab. Però dove state proiettando su uno schermo? Bene, allora vado a prendere lo schermo. La sto proiettando sul cellulare? Bene, allora la vado a prendere dal browser. Perché il cellulare lo prende dal browser. Bisogna soltanto capire dove state proiettando la vostra dashboard. Dire, aggiungo la fonte e vado a prelevarla, come vi ho fatto vedere. E poi basta solo ridimensionarla e andarla a posizionare dove volete. Un consiglio finale, prima di chiudere questo tutorial, è quello di posizionare bene bene la vostra performante. Ridimensionarla come volete. E poi gli date una bella lucchettata, ragazzi. Una bella lucchettata perché così non si muove più. Nella speranza che questo tutorial semplicissimo e rapidissimo vi sia stato, vi sia utile e vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un pollice in su. Iscrivetevi al canale Tante Gratuiti. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto. Ciao!